Aveva stipulato un'assicurazione online tramite un broker per la sua auto, ma durante il controllo delle forze dell'ordine ha scoperto che la polizza non esisteva. È successo a un giovane fermato per un controllo di routine. L'auto è stata sequestrata e per lui è scattata una multa di 900 euro. L'automobilista aveva stipulato via smartphone l'accordo con l'agenzia di assicurazione tramite un broker che lo aveva contattato per primo e ovviamente aveva pagato per ricevere la polizza assicurativa di RC Auto. Un contratto all'apparenza regolare, fornito del logo di una nota agenzia assicurativa, ma il tutto si è rivelato falso. Il giovane ha così presentato denuncia per truffa alla polizia di Stato e si è rivolto a Feder Consumatori Piacenza. Al momento sono in corso le indagini per risalire all'identità di colui o coloro che hanno preso contatto con la vittima della truffa. Il timore è che questo segnalato alle forze dell'ordine e all'associazione dei consumatori non rappresenti un caso isolato. Al momento si sta valutando anche l'opportunità di presentare ricorso al giudice di pace contro il provvedimento di sequestro dell'auto.